Ciao ragazze! Oggi vediamo assieme come preparare questo fantastico e semplicissimo scrub corpo dal profumo di Natale. Una vera coccola da regalare alle nostre più care amiche. Unico accorgimento è che va tenuto in frigo essendo 100% naturale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!